Giovanni era una danza, Giovanni è una danza. Il problema è sentire la sua stessa musica, come quella frase attribuita a Nietzsche. Avete presente che dice Quelli che ballavano erano visti come pazzi da chi non sentiva la musica. Ecco, a me la sua musica in quel periodo non arrivava proprio. Vi presento mio fratello. Va male a scuola, ama i dinosauri e mi ha cambiato la vita. La musica stava facendo quello che sa fare meglio, eliminare le differenze. Pensai che davanti a due amplificatori siamo tutti uguali. La musica entra nei corpi e i corpi reagiscono. Avevo impiegato 12 anni a vedere il mondo con gli occhi di mio fratello. E ve lo giuro, quel mondo non era affatto male. La gente prende in giro ciò che non capisce, ciò di cui ha paura. Furo anni di scoperte continue, Quelli. Giovanni era come un pacchetto di caramelle tutta diversa. Finché non l'hai finita, non sai qual è l'ha più buono. Finché non l'hai finita, non sai qual è l'ha più buono. Finché non l'hai finita, non sai qual è diverso.